amiche ed amici siamo a lezione con su rocker tv io sono kettipassa cantautrice dei chemama cantante dei rezzofonic dj speaker per televisi tutto ho fatto veramente tantissime cose che mi stanco quasi a dirle in verità spero di farne altrettante però io sono sempre molto legata appunto al concetto di improvvisazione al concetto di creatività che è fondamentale sono delle basi enormi per chi fa il nostro mestiero per chi vuole far diventare della propria passione un mestiere molto difficile a volte da far diventare mestiere la società moderna ci dà delle possibilità in più ci permette di spaziare ci permette di essere sempre sul pezzo ci permette di poterci reinventare perché sappiamo che negli ultimi vent'anni soprattutto le cose sono cambiate velocemente sicuramente bisogna avere sempre un po il coraggio di buttarsi buttarsi fa paura buttarsi ci fa sentire nel vuoto però perché vi sto dicendo tutto questo non per fare un trattato di sociologia anche se essendone laureata mi farebbe piacerissimo ma più che altro per parlarvi di quello che oggi sicuramente ci rappresenta di più ovvero l'immagine che noi diamo di noi stessi attraverso il mondo del web io tra le tante cose che ho fatto e che faccio c'è anche la copywriter e la social media manager e devo dirvi che essendo la scrittura al mondo in cui io mi sento più a mio agio in assoluto appunto la mia zona di comfort scrivere per gli altri creare immedesimarmi empatizzare anche con quello che sono le vite web e online di altre persone mi aiuta tantissimo proprio anche nel mio processo di crescita e di creatività quindi quello che oggi voglio fare sempre partendo da non fate come me perché per me dare lezione è un po questo cioè non fate come me fate così è dirvi una cosa importantissima che riguarda il modo in cui utilizziamo i social noi artisti noi persone che vogliamo comunicare qualcosa e sicuramente all'interno di questo argomento la parola chiave è engagement bisogna fidelizzarsi con le persone che ci seguono usciamo un po dagli schemi del numero dell'importanza del numero perché un po' come nella metafora della vita tutto è comprabile anche i numeri online sono comprabili tanti profili hanno dei numeri pompati non tutti hanno dei profili appunto che rappresentano seriamente il numero che vediamo ci rendiamo conto della veridicità di quello che ci viene proposto come contenuto social di base quando vediamo un bel engagement quindi una bellissima connessione tra chi segue e chi è seguito quindi il protagonista del profilo per cui io per esempio come social media manager il primo lavoro che mi ritrovo a fare ultimamente è proprio quello di portare la persona, la band o l'azienda laddove si parli anche di cose extra artistiche a definirsi che poi è la regola per tutto definirsi non vuol dire fare solo una cosa noi possiamo farne cento ed essere comunque sempre noi quindi l'importante è sapersi definire e essere sinceri quindi riuscire a dare il meglio di sé in tutto quello che a noi piace perché ricordiamoci che è importantissimo sentirci a nostro agio quando parliamo di qualcosa soprattutto online quindi non dobbiamo per forza parlare di cose di cui parlano tutti non dobbiamo per forza far vedere tutto e esporre la nostra vita privata magari c'è un argomento che è uno che però interessa a tutti su cui non riusciamo a portare avanti una comunicazione collettiva quindi diciamo nel mio essere copywriter e social media manager quello che vi dico è cercate l'engagement staccatevi dal numero di follower avete 600 follower ma che vi seguono tutti che vi mettono parecchio like durante quello mentre postate quando fate le storie vedete appunto che c'è tanto avete queste persone vicine un po' come se le sentite vicine ecco vuol dire che state facendo bene spero di essermi spiegata bene perché sono molto logologa che è un po' mi pappino però detto questo a lezione con su rocker tv con che ti passa torna prestissimo ciao 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 Grazie.